Amici e amiche carissimi, ben ritrovati per una nuova puntata del circo di catechesi dedicato a tenere amata, siamo giunti abbastanza avanti nel nostro percorso, oggi vedremo insieme un altro avvincente capitolo che è il numero 28, non faccio il riassunto della volta scorsa perché appunto cominciamo un capitolo nuovo, quindi direi che è il caso di passare subito alla lettura, in modo tale che vediamo di riuscire a farlo tutto questo capitolo oggi, e comincio in ogni caso la volta scorsa ci siamo lasciati ancora evidentemente parlando degli amori terreni, chiudendo con una bellissima esortazione di tenere amata che raccomandava di chiedere all'altissimo quando ci occorre qualcosa, ringraziarlo se c'era da, e ringraziarlo lo stesso anche se non ce l'ha da perché è tutta grazia che giova, anzi tutta la nostra vita celeste ma spesso e volentieri anche la nostra vita terrena. ora tenere amata riprende, è lei che sta parlando, per farti una remota idea del dominio che noi beati abbiamo sulla materia, energia, biologia dell'universo ti racconto una mia esperienza della mia gloria accidentale, consistente nella compenetrazione amorosa che realizzai con un fiore. Sì, non ridere, mi intercompenetrai con una bella rosa scarlatta. L'amore universale incompleto e restio sulla terra è perfettissimo e splendente nella beatitudine. Tutti noi esseri ci amiamo secondo la natura propria e le sfumature irripetibili d'amore che ci ha concesso il creatore. Tutte le creature ci desideriamo e ci godiamo tra di noi, in Lui con la L maiuscola e con Lui sempre con la L maiuscola. È affascinante scoprire passo a passo nella gloria eterna la magistrale corrispondenza d'amore tra gli uni e gli altri. Perché tu ti possa fare un'idea di questo meraviglioso amore molteplice, dovresti mettere ogni essere singolo, in ogni spazio-tempo della sua esistenza e il rapporto con il resto dell'universo. Smettila di sorridere perché si tratta di amori certamente grandiosi. Ciò che avviene è che col tuo piccolissimo amore superficiale, egoista e breve, tu ami la bellezza di un fiore o di un giardino senza comprenderla, senza goderla. Vedi nei fiori e nei frutti, nei semi e nei boschi soltanto il segno del valore in denaro. E se di passaggio ti piace un fiore per il colore e il profumo, qualifichi questo amore è esclusivamente da parte tua. Tuttavia il buon amore mai è unilaterale. Per forza è reciproco, già che si tratta di un disegno divino. Facciamo un attimo una prima pausa importante. Quando si parla di amore universale, anzitutto, concetto che abbiamo trovato diverse volte, non è soltanto l'amore universale tra le varie forme d'amore umane, diciamo così, che il nostro Signore ha previsto e preordinato per noi. È universale perché è universale. Cioè coinvolge l'amore verso tutto il creato. Si intercompenne tra te nell'amata. Riccardo sorride, ma c'è poco da sorridere, lei spiega, con una rosa. Spiegherà più avanti che è certo che la rosa non è un essere umano, quindi ha una sua peculiarità propria di dare e ricevere l'amore, ma ce l'ha pure lei. Il passaggio chiave è tutte le creature ci desideriamo e ci godiamo tra di noi, in Lui, con la L maiuscola e con Lui. E c'è una magistrale corrispondenza che si scopre a poco a poco, dice, nella Gloria Eterna, tra gli uni e gli altri. Farti un'idea di questo significherebbe, proviamo un attimo a immaginarsi, no? mettere ogni essere singolo in ogni spazio o tempo della sua esistenza, insomma, è un po' il rapporto con il resto dell'universo. E poi fa comprendere anche l'imperfezione strutturale, diciamo così, del nostro, come dire, della nostra piccola, limitatissima, superficiale, egoista e breve capacità di amore che abbiamo sulla Terra. E qui possiamo fare un raccordo, per esempio, con la Divina Volontà. Penso che qualcuno che la conosce già ci avrà pensato mentre Teneramata parlava, no? Dice, tu non ami la bellezza di un fiore di un giardino? Senza comprenderla e senza goderla. Tutti gli esseri umani sono così, no? Cioè, sì, trovi un bel fiore, te lo annusi, annusi l'odore, ne godi del profumo, però punto primo è un godimento molto limitato e punto secondo è esclusivo da parte tua, al momento. Tu godi di Lui, ma non c'è ancora in atto in questo tempo il contrario, Lui che gode di te. E anche il tuo godere di Lui è un godere limitato. Chi conosce la Divina Volontà sa bene che gradualmente si impara a cogliere e quindi a godere sempre meglio, perdonatemi anche in questa vita, dei vari, si chiamano così, però è difficile capire, ti amo che il nostro Signore ci dice ininterrottamente attraverso tutte le cose create, tutte e nessuna escluse. Ma gli amori anche con le cose create, così conclude questa pericope, concludendo il concetto di cui era partito, appunto l'intercompenetrazione colorosa scarlatta, non è mai unilaterale, è sempre reciproco, perché si tratta di un disegno divino. Riccardo obietta, ma perché non vedo le cose come le vedi tu? Dice perché l'egoismo, la superbia e l'ambizione bendano gli occhi del tuo spirito. Inoltre, attualmente, vivi nel regime della fede, molto in fretta a causa del trascorrere veloce degli spazi tempi terrestri e con la coscienza fortemente legata al momento attuale. Una piccola sintesi della nostra condizione strutturalmente limitata, molto limitata, fino a quando siamo in questa valle di lacrime. Tutti siamo egoisti, superbi e ambiziosi. Tutti. Chi più e chi meno. Chi sta un po' più avanti nel cammino di santificazione, un po' meno. Chi sta un po' più indietro, un po' di più. Ma comunque questo è un minimo comun denominatore. Tutti viviamo nel regime della fede. Il regime della fede è appunto il regime della fede e non della visione. È la condizione tipica di questa vita, no? La fede in cielo non ci sarà più. Spiega benissimo San Tommaso. Fede e speranza, lo spiega anche San Paolo, ne dino la carità, in Primo Corinzi 13, fede e speranza sono per questa vita, non per l'altra. E poi qui il tempo trascorre velocemente, qui non abbiamo picchi secondi o cose di questo genere, cioè non li possiamo vivere, lo viviamo all'incedere, al battito del secondo, questa è la nostra dimensione qui, e peraltro la nostra coscienza è fortemente legata al momento attuale. non possiamo sganciare la nostra coscienza dal momento attuale, no? Riccardo esplode. È terribile questa situazione di pellegrinaggio. E lei risponde, sì, è una prova molto breve, ma dolorosa, per meritare la beatitudine. Ma nel cielo tutti cerchiamo e siamo cercati, amiamo e siamo amati, godiamo e facciamo godere. Ti dicevo che i grandi valori, verità, bontà, bellezza, unità ed eternità, abbiamo già visti questi qui, no? L'eternità, a suo tempo, abbiamo fatto notare che è, nella prospettiva di Teneramata, il quinto trascendentale dell'essere. i trascendentali dell'essere, per chi non lo ricordasse, già dai tempi di Sant'Ommaso d'Aguino, sono stati definiti veramente dai tempi già di Aristotele, per essere poco precisi, quindi quasi duemila anni prima di Sant'Ommaso. Comunque, ogni ente, quindi in quanto ente, è uno, è vero ed è buono. La scuola platonica, poi abbracciata da Sant'Agostino, ha aggiunto anche un'altra cosa, ogni ente in quanto ente è bello e con la rivelazione di Teneramato, ogni ente in quanto ente è eterno. Ovviamente si parla dell'eternità creata, non dell'eternità increata, che è la dimensione propria di Dio solo, no? Questi grandi valori sono come l'esca spiega dell'amore che gode e ogni essere li possiede in maggiore o minor grado proporzione e sfumatura unica. Non è vero che nell'unità di un fiore vero esiste la bellezza dei petali e del profumo e che attira perché tutto ciò che è buono e non finisce madura eternamente? Sì, ma insisto, l'amore ad un fiore non può essere contraccambiato e lei, così sembra sulla terra ma in cielo è diverso. E poi noi, glorificati, piccoli dei, per partecipazione analogica dell'Altissimo non siamo più soggetti alle leggi naturali della Terra. Dominiamo il complesso materia, energie, spazio, tempo, eternità creata, sesta dimensione. Ma vedo che stai pensando nella ripugnanza mondana, nell'immaginare con penetrazioni morose con determinati esseri viventi considerati repulsivi sulla Terra. È perché non è approfondito il meccanismo psicologico della ripugnanza. Obietta, ma ci sono cose repulsive per natura. Vedrai, obietta tenera amata, che non è così. La ripugnanza, pur di non esagerarla, è conveniente e perfino necessaria in questo mondo, allontana dai pericoli. Il cattivo odore, per esempio, allontana dai focolai tossici o contagiosi. Molti insetti schifosi per l'uomo molestano con le loro punture o sono portatori di germi patogeni. Tutto ciò lo sa l'anima e avvisa la coscienza mediante la sensazione della ripugnanza. Adesso vedremo questi meccanismi. Comunque immagino che nel cielo ci dovrà essere qualche ripugnanza. E sentite la risposta? E invece no. Non esiste. E lo constaterai. Per adesso, osserva come certe ripugnanze terrene, mal comprese e assai poco dominate, impediscono il compimento di molti doveri cristiani. Così la gente povera, tante volte, maleodorante, e pertanto certi cristiani puliti non l'avvicinano, preferiscono aiutare i mendicanti, gli ammaliati ed anziani per mezzo di qualcun altro, il quale non sempre compie con fedeltà la volontà del donatore. Nella patria invece non esistono ripugnanze. Nessun essere causa il minimo danno nella gloria eterna. Nessuno, nemmeno là esiste, scusate, la sensazione di ripugnanza verso il peccato, perché nella beatitudine non si conosce il male morale. Allora, comprendiamo che questa disposizione, questo stato d'animo, cioè la ripugnanza, in cielo non c'è. Perché non esiste niente di ripugnatici, ma nemmeno il peccato. Il peccato in cielo non esiste. Non c'è la possibilità di commetterlo. Anche qui, se qualcuno ci avesse qualche dubbio, si ricordi che il buon Sant'Agostino, quando parlava delle tre condizioni dell'uomo, quindi c'è l'uomo peccatore, c'è l'uomo giustificato o che vive in grazia, c'è l'uomo glorificato o che ha raggiunto la gloria. E lui diceva, l'uomo non giustificato, quindi l'uomo peccatore, l'uomo non battezzato, l'uomo senza la grazia, non può non peccare. L'uomo giustificato o in grazia può non peccare, se vuole, ma l'uomo glorificato non può peccare. Dio non pecca. E Dio Onnipotente, come ben sappiamo dal Catechismo, può fare ogni cosa tranne il male. Non esiste nemmeno come possibilità in Dio. E non c'è nessuna possibilità di provare ripugnanza verso quelle cose che adesso ci fanno ripugnanza naturale, ma spiega il meccanismo psicologico della nata. E lo spiega così come è. Spero che al termine di questo viaggio capiamo un po' meglio quel fenomeno che tutti quanti abbiamo e che è la nostra anima. dice che la nostra anima sa che alcuni oggetti, chiamiamoli così, sono patogeni. E quindi che succede? Succede che attraverso l'insorgere della sensazione della ripugnanza l'anima avvisa la coscienza servendosi del malodore o della cattiva o della vista, per esempio, ripugnante per tenere lontano da qualcosa che potrebbe farci male. Ma questa è una cosa che riguarda questa vita. Ma nell'altra vita non ci può essere niente di patogeno. non ci può essere niente che ci faccia del male. Mentre riflettiamo su queste cose io vorrei polarizzare un attimo l'attenzione. Facciamo sempre attenzione mentre leggiamo queste cose o mentre pensiamo a queste cose. Noi non possiamo prestare all'altro mondo o al mondo divino le disposizioni nostre particolari e peculiari che abbiamo adesso nello stato di viatore e alla fine è così. Cioè, molte cose io ho citato la volta scorsa ho fatto un pochino di ironia. Mail che mi arrivano da parte di gente che non capisce queste cose qui non le capisce perché tu non puoi proiettare le sensazioni le modalità le dinamiche della vita attuale sull'altra. Non puoi. Perché sono due realtà incommensurabili diverse. La Ramata cerca di descriverlo è chiaro che una descrizione non ce ne dà la percezione reale quindi non è che noi ce lo possiamo in qualche modo rappresentare però possiamo in qualche modo focalizzarlo comprenderlo e quindi per esempio capire che non possiamo spostare cioè c'è chi mi scrive ma guarda ma io voglio tanto bene a mia moglie o a mio marito ma io non voglio che questo qui sia che poi se lo prenda qualcun altro che ci abbia un rapporto d'amore con qualcun altro è mia moglie mio marito e questo viva Dio magari cioè questa cosa in questa vita terrena non è che è sacrosanta di più ed è vero anche il contrario cioè attenzione a cioè quando si parla di queste cose mi pare che ho già trova la volta scorsa queste sono cose riservate al cielo non si possono anticipare qui non si devono anticipare qui perché non siamo in condizione di poterle vivere perché non abbiamo le disposizioni che avremo in cielo ecco spero di di essere stato chiaro no? adesso a un certo punto Riccardo obietta ma guarda che compenetrati amorosamente con uno scorpione cioè proviamo un attimo a pensare no? ti piacerebbe compenetrarti amorosamente con uno scorpione tutti tutti quanti diremmo no o con un serpente assonagli no è è certo che rispondiamo di no rispondiamo di no perché stiamo in questa dimensione ma te ne la vada risponde quando avrai progredito nel cammino della perfezione cristiana nella vittoria sulle cattive abitudini terreni e tra queste le ripugnanze e incomincerai ad intuire il tuo nome nuovo accetterai con gusto di compenetrarti nel cielo col fratello serpente assonagli o col fratello bacillo della lebra mamma mia il bacillo della lebra immaginate che roba no? quando avrai progredito nel cammino della perfezione cristiana nella vittoria delle cattive abitudini terreni quindi che cosa sta sta dicendo se pensando a queste cose mi compenetro col serpente assonagli non ti sorge estintiva troppa ripugnanza vuol dire che stai già un pochino avanti nel cammino di perfezione cristiana perché vuol dire che ti sono già attivati delle valvole mentali che ti fanno comprendere come se esiste al serpente assonagli esiste cioè esiste lo scorpione è esiste per un motivo e facendo parte del creato ed essendoci tra le creature il vincolo di amore universale l'amore universale non può non coinvolgere anche quella creatura cioè la ripugnanza allora più avanti lo spiegherà tenera amata quando una persona è innamorata veramente sapete qual è una delle prime spie finiscono le ripugnanze no? o no? se due persone sono innamorate per esempio una mamma se un bambino lascia qualche cosa nel piatto se lo mangia lei o no? se stiamo a tavola con un estraneo e quello lascia le cose nel piatto te le mangi tu? difficile perché ordinariamente ti fa un po' schifo se si perdoni il termine no? perché c'è un senso di ripugnanza perché le cose che hai lasciato nel piatto insomma la saliva non è che sono proprio cose molto entusiasmanti no? tant'è vero che grandi santi tra cui proprio San Tommaso d'Aquino praticavano come gesto di mortificazione di mangiarsi gli avanzi degli altri frati insomma è una bella mortificazione in questo mondo no? ma quando due persone sono innamorate non c'è questa ripugnanza soltanto tra madre e figlio ma anche tra fidanzato e fidanzata o tra sposo e sposa cadono le ripugnanze no? perché? perché si amano e quindi quando c'è l'amore universale in atto è possibile che si abbia ripugnanza verso qualcuna delle creature cioè questo si capisce un po' no? ecco in questo mondo oh mamma mia adesso tenere la madre dice proprio quello che stavo accennando io l'amore oh non l'avevo letto prima eh l'amore già incomincia a inibire la ripugnanza una mamma amorevole ad esempio non sente ripulsione verso suo figlio per quanto possa essere sporco i fidanzati sanno bene che l'amore si dimostra quando si perde la ripugnanza cioè se vuoi far capire a una persona che la ami per esempio bevi nel bicchiere dove ha bevuto lei è un messaggio tacito ma capirà un giorno constaterai come i gradevolissimi rapporti vicendevoli nella patria sono basati sul meraviglioso amore universale termine chiave amore universale come ha visto bene come ha visto bene San Francesco d'Assisi uno a mio avviso io penso che San Francesco d'Assisi attenzione rettamente inteso non nella vulgata penosa che ne viene fatta adesso da certi ambienti che mi fa venire nervoso e che non credo certamente che faccia contento nemmeno San Francesco ma come ha visto bene San Francesco d'Assisi nella sua cristianissima vita di povertà noi esseri creati siamo fratelli essendo stati fatti da un medesimo ed unico padre celeste attenzione questo non c'è a che fare con la fratellanza massonica o con libertà e carità e fraternità oppure con le vulgate proprio patetiche di questo concetto così come viene oggi declinato ma c'è un fondo verissimo l'amore universale tra tutte le creature come accennavo prima si fonda sul fatto che lo scorpione l'ha creato nostro signore si è fatto da solo ne viene dall'evoluzione dai batteri tutte quelle retinate che ancora vanno dicendo in giro e che ho già avuto modo di di biasimare durante il corso di questo di questo ciclo di catechesi l'ha creato nostro signore e quindi siamo stati fatti da un unico padre celeste e quindi non possiamo non amarci gli uni con gli altri nell'altro mondo chiaramente dice quanta pace spirituale e quale perfetta letizia otterrai dice se imparerei ad apprezzare davvero secondo il modo cristiano il fratello sole il fratello lupo la sorella materia la sorella la pianta vedete qui sta parlando non usa il termine ma qui sta parlando della vita nella divina volontà che quasi nessuno ahimè capisce meno ancora vivono il ti amo il ti amo che il nostro signore ci mette nel sole il ti amo che ci mette nel lupo nella materia nelle piante dice quanta pace spirituale e quale perfetta letizia otterrai perfetta letizia era uno degli slogan uno dei motti di san francesco famosissimo il fioretto sulla perfetta letizia con frate leone e questo sarà un fruttuoso allenamento per acquistare in terra le abitudini del cielo che cos'è la vita nella divina volontà come in cielo così in terra è una anticipazione analogica ovviamente non perfetta di quella che è la vita del cielo e Riccardo torna alla carica ma non si sente il minimo schifo nella gloria eterna insistetti e te ne la vada risponde certo che non si sente che schifo in paradiso non si sente dire mai da nessuno noi beati non possiamo sentire ripugnanza di compenetrarci amorosamente con gli esseri che il nostro dio non ha avuto ripugnanza di creare immaginate ci sono le persone che sono allergiche ai topi che gli fa oppure alcune cose che uno per qualche motivazione psicologica proprio gli repellono nota che le repulsioni in questa vita dipendono delle volte da una cattiva educazione se a una mamma non piace un determinato cibo è quasi sicuro che trasmetterà questo rifiuto ingiustificato ai figli in ogni nazione c'è di solito qualche abitudine che a prima vista causa ripugnanza agli estranei così le nostre fritture di vermi d'agave o d'agave non so neanche come si pronuncia questa cosa qui perdonatemi la pasta d'aglio con olio che tanto piace ad alcuni spagnoli le uova marce che certi orientali trovano deliziose o il formaggio coi vermi qui per me stiamo proprio al massimo della ripugnanza dei francesi e tedeschi ma tutto ciò eh amici cari è dovuto al peccato del mondo sentite che bella cosa ci si è c'è qualche cibo che ti fa schifo è dovuto al peccato del mondo ci avete mai pensato quindi spero che tu riesca a entravedere l'amore e il giubito della vita futura noi non rassomigliamo a quelli del mondo dove persiste l'inesorabile lotta tra la polvere per soffocare la vita e la vita per scodersi la polvere in tutti gli astri e negli altri luoghi dell'infinito universo si contempla e si gode quello che in questa terra annuvolata dal peccato esso non ci ha permesso anzi ha sciupato e ci ha dato fiere animali nocivi paure e ripugnanze dice Riccardo è molto triste il destino del nostro pianeta e la madre risponde non tanto è una situazione transitoria dovuta alla malizia umana dopo il giudizio finale dopo il giudizio finale attenzione qui parla del giudizio universale noi beati opereremo nella quinta dimensione sulla terra e riconosceremo i nostri animali e le nostre piante cui vogliamo bene e gli oggetti che apprezziamo addirittura ricorda che ogni essere indistruttibile che perdura o vive senza fine nei suoi atti di esistenza e nei suoi spazi e tempi dell'eternità creata questo vale anche per gli oggetti un esempio prima che ci fossero gli ipad gli iphone queste cose qui io mi ricordo che erano gli anni 2000 i primi aggeggetti un po' come dire allettanti elettronici che che uscirono vedete il nostro signore mi ha trasmesso un certo fascino per queste cose perché probabilmente sapeva che avrei dovuto farne un certo uso diciamo così un po' particolare no? c'erano i palmari non so chi di voi li conosce i compact HP adesso sembrano cimeli sembrano e ah nell'eternità creata allora è chiaro che il palmari non ce l'ho più chissà che fino ha fatto ma c'è stato uno spazio tempo adesso non mi ricordo le date precise lo supponiamo dal 2000 al 2002 che io ho avuto questo compact 6670 è un oggetto che quando ce l'avevo mi piaceva assai adesso non c'è più ma quell'oggetto ha il suo spazio tempo per quanto riguarda la mia vita circoscritto dal giorno in cui l'ho comprato fino al giorno in cui l'ho dismesso mi ricordo se era rotto che ne so che fine ha fatto non mi ricordo allora dopo il giudizio finale noi opereremo nella quinta dimensione e riconosceremo i nostri animali le nostre piante vogliamo bene e gli oggetti che apprezziamo tutti e questo perché ogni essere è indistruttibile e perdura e vive senza fine nei suoi atti di esistenza e nei suoi spazi tempi dell'eternità creata questi esseri cari che in qualche modo ci hanno conosciuto e amato ci attendono negli eterni spazi tempi in cui hanno vissuto con noi qui parla esseri che in qualche modo ci hanno conosciuto e amato parla degli animali che ne sappiamo noi adesso che ne so come reagisce una pianta alle nostre cure boh che sentirà una pianta se io se io amo una certa pianta la coltivo la curo che se boh però quello è un essere vivente quello lì dice per trattarli nuovamente questi ci attendono negli spazi tempi che hanno studiato con noi sarà sufficiente come oggi stai constatando ritornare al passato adoperando i paratempi come in una gita di piacere osservendoti ecco qua della sesta dimensione io ho già detto tante volte che su sta sesta dimensione ci avrò la mente corta anche prima c'è stata una citazione ma che io ricordi ogni tanto la cita ma non ne dà una spiegazione e io non riesco a capire di che cosa si tratta perdonatemi l'ignoranza non lo so se per esempio questa sesta dimensione forse potrebbe essere l'eternità increata cioè quella cioè quella che vive l'altissimo quindi che significa significa che quando staremo altrove quindi nella dimensione della gloria possiamo andare a spaziare nell'eterità increata come dire anche molto indietro possibile però non ho capito bene quindi inevitabilmente questo ciclo rimane limitato perché spero che poi rileggendomi si accenda qualche lampadina ma questo l'ho letto credo 6 o 7 volte già prima di fare questo ciclo di catechesi non mi si è chiarificata che cos'è questa sesta dimensione comunque adesso certamente li conosci appena di fuori e ti comunichi con loro per mezzo di segni o carezze superficiali con i nostri animali no? ma nella vita futura nell'inter grazie all'interpenetrazione del reciproco di amore li godrai fino al più intimo della loro essenza cioè noi non ci godiamo adeguatamente per esempio i nostri animali domestici assolutamente diciamo ma come gli faccio un sacco di carezze fanno un sacco di fusa e ci stanno certi video in giro su facebook su youtube che fanno vedere delle cose commoventi insomma di alcuni animali del rapporto che si instaurano e niente ancora quello lì niente perché in questa in questa dimensione nella quarta nella nostra e quindi nel tempo nella condizione di viatori sotto prova la nostra come dire capacità di amare e di essere amare sta a bassissimi livelli e quindi inevitabilmente i contatti i godimenti i reciproi sono assolutamente limitati non sarà così quando torneremo in quegli spazi tempi dalla quinta dimensione ti sei compenetrata amorosamente con qualche animale tuo domestico attenzione a quello che risponde non ancora a causa dello stato di interdizione attualmente in vigore sulla terra ma lo farò o meglio lo faremo ci basterà scegliere i paratempi idonei in questo modo saprai ciò che volevano dirti i tuoi cani quello della tua infanzia quello della tua adolescenza e quello della tua anzianità quando scodinsolavano saltavano verso di te strofinavano le loro zampe sporche nelle tue braccia e cercavano di reccarti il volto mentre ti guardavano con i loro occhi pieni di riconoscenza di innocenza spinti dal loro istinto di felicità al futuro questa è tanta roba amici cari cioè non è che gli animali parleranno come nei fumetti di Walt Disney no ma che cosa vogliono dirci con le loro manifestazioni peculiari e particolari noi non possiamo comprenderlo qui appieno credo almeno ma un giorno sì non soltanto che loro capiranno molto meglio noi e godranno molto di più grazie ai godimenti che noi gli faremo vivere come sacerdote ricordate del creato loro non hanno la visione beatifica ma noi quando ce l'avremo gli faremo godere qualche cosa di riflesso della condizione di beatitudine che ci porteremo addosso attraverso il contatto ripristinato con loro ma sarà anche una cosa al contrario cioè noi potremo godere da loro delle cose che qui in questa vita ci sono preluse e ci potremo compenetrare con loro felicità che darei loro nel compenetrarti amorosamente con loro ci abbiamo ancora un pochino di tempo capitolo 29 Teneramata ed io continuavamo in piedi nel cortile dell'università in quella San Luì Potosi del dicembre 1938 ma in un paratempo già che non si sentiva nessun rumore né camminava all'orologio esclama Riccardo è meraviglioso ciò che dici Teneramata sì è meraviglioso l'universo che ha creato il nostro Dio o l'universo che ha creato il nostro Dio a me mi vengono certi nervi amici cari i documentari sono sono belli ma tocca sempre sentirsi tante di quelle cretinate quando uno se lo vede a sentirsi tutte quante le cretinate che vengono dette gli passa la voglia a uno di vederse le cose se la fa tornare perché dice vabbè fammi durare gli occhi dinanzi a ste cretinate io me lo godo sotto un altro punto di vista ma avviene proprio il nervoso di sentire certe proprio ma proprio certe 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 stupidaggini eh no gli elementi gas si sono disposti non si capisce bene in base a cosa cioè ma questi fanno fanno sfoggio di intelligenza e che e chi si li vede magari se le beve quelle quelle cose lì no l'universo è stato creato da Dio noi non parliamo di natura natura è un termine che lasciamo agli atei noi parliamo di creato non di natura certo poi c'è la legge naturale non è che la ma dobbiamo fare dobbiamo imparare anche a fare attenzione a quando ci esprimiamo perché il linguaggio è veicola un concetto un'idea tutte queste meraviglie che 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 narratene ramata dipendono da una cosa molto semplice che non c'è ente creato ente creato che non sia stato creato da lui e quindi è tutto nel suo disegno in relazione amorosa reciproca egli ha stabilito che molte glorificazioni degli esseri irrazionali e degli esseri inanimati si compiano mediante gli uomini beatificati in questo principalmente consiste il nostro dominio come re della creazione capite quello che sta dicendo ha stabilito ripeto che molte glorificazioni degli esseri irrazionali e inanimati anche inanimati più avanti spiega che c'è la compenetrazione per esempio col tavolo io sto davanti in una scrivania qui non si vede dal computer perché ma dicevo eh ora fa la compenetrazione con la scrivania sai che viene in porta la scrivania di te e questo è un discorso un po' sciocco figlione miei cari perché non è che la scrivania ha una personalità o un essere vivente ma attenzione la scrivania è fatta di legno il legno è una sostanza specifica ma nella materia legno la materia legna è fatta di atomi questo adesso i dottoroni gli scienziatoni gli intelligentoni questo è proprio lo sappiamo anche noi penso che anche la gente comune sa queste cose tutti a scuola hanno studiato che l'atomo è la particella elementare della materia e il mio corpo di che cosa è fatto è fatto di atomi e quindi e quindi e quindi queste realtà si possono e in un certo senso si dovranno nell'altra dimensione compenetrare e attenzione siccome sono io a godere la visione beatifica nell'altro mondo non la scrivania ma gli esseri inanimati gli atomi della scrivania godranno attraverso il contatto con gli atomi del mio corpo glorificato allora un'altra volta forse qua si vede che quando mi fermo e parlo adesso ho dato un'occhiata al capoverso seguente dove riprendo alcune cose che ho appena detto presumibilmente quando 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 faccio qualche pit stop che anticipo quello che viene immediatamente dopo sarà che dentro la mia testolina dentro la memoria c'è qualche riminiscenza di quello che ho già letto tante volte che quindi mi viene da da dirlo proprio al commento del brano che stiamo leggendo perché poi sarà terrennavata stessa a commentarlo in questo senso sentiamo come prosegue il discorso che ha appena fatto ci sono esseri che a loro volta sono composti di molti altri un determinato animale o vegetale ha un quantitativo innumerevole di cellule e ognuna corrisponde ad un individuo molto complesso tuttavia ogni essere particolare occupa il suo posto in un preciso grado della scala gerarchica della creazione e in un determinato spazio-tempo della propria storia se volete poi spiego non dimenticare i vari livelli di esistenza non è la stessa cosa il livello di organismo totale del cane o il livello cellulare di questo animale o ancora il suo livello materiale o energetico in un preciso spazio-tempo della sua vita quindi c'è l'organismo totale del cane ma c'è anche un certo livello cellulare proprio un certo numero di cellule che ha in un certo momento preciso della storia ricordiamo per esempio che noi esseri umani facciamo un po' di ripasso abbiamo una muta quindi un cambio integrale di tutte le nostre cellule circa ogni sette anni quindi io adesso che ho 52 anni 7, 14, 21, 28 35, 42, 49 sto alla settima muta è così è e quindi il mio livello cellulare attuale anche qualitativo è diverso da quello che c'era quando avevo 20 anni così come il livello materiale o energetico pensiamo anche alle mutazioni che avvengono col variare degli anni per esempio del metabolismo io ho dovuto cominciare a combattere contro i problemi legati al sovrappeso come mi predisse con infallibile precisione il mio caro buonanima di papà e se non ha fino a 40 anni poi sta tranquillo mangia bevi basta che ti muovi un po' ma ricorda che da 40 anni in poi dovrei cominciare a combattere con i problemi della del sovrappeso del prendere peso e se non stai attento diventi una balena sacro santissima verità e se non si sta sotto continuamente attenti guarda datevi uno sguardo in giro diventi una balena perché diventiamo baleni dipende dal nostro metabolismo dipende anche dal fatto che non cresciamo più quindi il nostro organismo sta in una fase differente dice ma io sento una fame e boia sì tu senti una fame e boia questi sono i disordini che lascia il peccato senti una fame e boia ma quello di cui c'hai bisogno è molto inferiore alla fame e boia e obesi non ci possiamo diventare e i peccati di gola non si possono fare quindi e quindi dobbiamo stare un po' in croce c'è niente da fare non ci sono alternative allora proseguo la lettura la compenetrazione gloriosa col tuo cane la farei a livello del suo organismo integro che è quello che conosciuti in questo mondo è chiaro che potresti anche interpenetrarlo a livello di atomi attenzione ma allora la felicità la riceverebbero i suoi atomi e non il cane in quanto un organismo intero qui Riccardo obietta che è complicato per me non è complicato manco per niente cioè perché il mio cane o il mio gatto possa essere beatificato dalla compenetrazione amorosa con me io mi devo compenetrare con l'organismo integrale non con i singoli atomi non semplicemente con i singoli atomi perché se mi compenetro soltanto con i singoli atomi cioè la felicità l'avvertono i singoli atomi non come dire l'individuo cane non è tanto difficile secondo me dice che complicato complicato obietta Riccardo ma te ne la madre risponde ma è facile è difficile spiegartelo ma un giorno lo godrà nel cielo io e te compenetreremo amorosamente per esempio sentite una goccia d'acqua quale ma una delle tante che il nostro Dio ci ha destinato quella sicuramente più indicata per noi una goccia d'acqua e attenzione nell'interpenetrarla godremo della sua affinità ossia dell'amore chimico che vincola in stretto abbraccio gli atomi che la formano io purtroppo sono un ignorante in chimica c'ho delle riminiscenze proprio molto molto arcaiche di quella pochissima chimica che io ho studiato pochissimo perché siccome ho fatto il liceo classico non studiavo le materie scientifiche per partito preso io ho fatto il liceo classico io le materie scientifiche è robaccia sono robe aride non nobilitanti di essere umano a me piace la storia la letteratura la filosofia il latino il greco che è sta robaccia qua le chimiche i legami chimici le basi l'elettronegatività il lottetto ma che è sta robaccia qui quanto me so pentito perché adesso lo intuisco un pochino questa cosa qui ma se avessi studiato un po' più di chimica adesso capirei meglio quello cioè non sono a capire lo capisco però mi farei anche una rappresentazione perché mi ricordo che le reazioni chimiche quindi le unioni sono una cosa bellissima e molto molto ampia molto molto variegata molto molto complicata adesso più di questo purtroppo non ci arrivo perché sono ignorante su questo su questo su questa materia magari se sente queste cose un chimico se c'ha chiaramente il cuore la mente aperta se le potrà come dire rappresentare assai meglio di come faccio io no perché gli atomi li ha creati il nostro signore e l'atomo dell'acqua questa è la diversità delle sostanze non la composizione dell'acqua ma ricordi H2O la molecola dell'acqua ha due atomi di idrogeno e uno di ossigeno questo grazie a Dio non lo ricordo poca roba è chiaro che la mia pelle cioè la mia epidermite non c'ha sicuramente come composizione chimica H2O c'è un'altra che io adesso non sono in grado di dire ma quindi che succede che se il mio dito si va a compenetrare con la molecola d'acqua avverte avverte lo stretto abbraccio degli atomi che lo formano che formano la molecola d'acqua che sono diversi da quelli che formano la punta del mio dito e che cosa faranno gli atomi stessi hanno l'istinto di felicità ma capite che significa capite che si è inventato nostro signore i quali dice leggo prima nell'interpenetrarla godremo della sua affinità ossia dell'amore chimico che vincono in stretto abbraccio gli atomi che la formano i quali per il loro istinto di felicità conosceranno al modo loro la nostra presenza nel loro interno gli atomi stessi hanno un istinto di felicità ma capito e lì glorificheremo mediante il solo nostro contatto ed esso ci comunicheranno le intime delizie della loro potente stabilità e ci faranno parte dei loro doni squisitamente individuali e individuali ricevuti dall'altissimo cioè attenzione quale goccia d'acqua una goccia d'acqua cioè io ho questo brutto diciamo così vizio forse virtù di tornare e di fare attenzione lei ha detto ci compenetremo per esempio con una goccia d'acqua quale una delle tante che il nostro Dio ci ha destinato quella sicuramente più indicata per noi perché specifica quella più indicata perché non sono tutto uguale le gocce d'acqua come non sono tutto uguale le gocce d'acqua no non sono tutto uguale le gocce d'acqua non lo sono intime delizie della loro potente stabilità faranno parte dei loro doni squisitamente individuali l'individualità è una cosa meravigliosa anche se oggi nel mondo globale livellato e massificato appena si parla di individuo ah tu sei individualista individualista l'individualità è una cosa meravigliosa perché fa di ogni singolo essere qualcosa di unico quindi è proprio quella goccia d'acqua che il Signore ha fatto per me un'altra l'ha fatta per qualcun altro e dice Riccardo non comprendo come li renderai felici li glorificheremo questi elementi perché nell'interpenetrarli sentite che roba toccheranno il loro creatore a causa della nostra missione sacerdotale nella creazione così comprendiamo che siamo tutti in questo senso sacerdoti capite che sta dicendo che attraverso il contatto con un essere umano che è il re e il dominatore della creazione ed il suo sacerdote quindi colui che porta la creazione a Dio e anche Dio alla creazione chi sono io che sono sacerdote ministeriale io porto a Dio le creature si spera e porto anche Dio alle creature cioè attraverso il contatto con quello che dico si spera e con quello che faccio perché io gli do i sacramenti alle persone e se ti do un sacramento io ti porto Dio ti porto sono sacerdote ma il sacerdote nella creazione che significa che tu interpenetri con un atomo tu stai in stato di glorificazione quindi vuol dire che sei glorificato che c'è la presenza di Dio in te massima possibile che è quella con la visione beatifica con la glorificazione tu sei un piccolo Dio l'atomo entra attraverso di te in contatto con chi l'ha creato e per lui è un'esplosione di gioia l'atomo di quella certa sostanza a modo loro si rarregleranno e ci faranno partecipi del loro giubilo cioè noi sentiremo che sono felici di entrare in contatto con me e che attraverso il contatto con me sono stati felici gli atomi di quella molecola vibreranno intensamente d'amore brilleranno di gioia mentre noi assaporeremo i doni singolari e irripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi ecco adesso facciamo la conclusione tipo serie tv che rimangono a metà sul più bello però il tempo è scaduto è sempre meglio non appesantire troppo riprenderemo questo discorso sull'esplosione di gioia ecco tra gli atomi che entrano in questo modo in contatto all'inizio della prossima puntata intanto come sempre Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti vi protegga grazie a tutti